Rettore, l'Università di Taramo oggi si ricchisce di un altro corso, quello dedicato alla scrittura creativa. Certamente, ed è un corso straordinario per la qualità dei relatori, per la qualità dei docenti, per il coordinamento che viene assicurato da Andrea Carraro e per il partenariato con cui è stato realizzato questo corso, il Centro Anna Arendt. L'Ateneo non può che ringraziare il Centro Anna Arendt nella persona di Guendalina di Sabatino e Andrea Carraro come coordinatore del corso. Si chiama quindi Come raccontare il corpo? Un corso di scrittura creativa? In cosa consiste? È un corso di scrittura creativa abbastanza tradizionale, però di diverso rispetto a un corso tradizionale. C'è l'attenzione appunto verso il corpo, quindi verso tutte le espressioni del corpo, la fisicità soprattutto. e diciamo scrivere, l'importante della scrittura narrativa che intendo trasmettere a questo corso più che insegnare è appunto raccontare l'uomo in tutte le sue sfaccettature. Del resto la letteratura da sempre si occupa di questo, di raccontare l'uomo. La data di inizio del corso e la durata? Il corso inizierà il 5 aprile con lo scrittore Sebastiano Nata e concluderà il 7 giugno con il critico letterario Filippo Laporta. Il corso è articolato in 10 lezioni, ogni lezione sarà preceduta dall'incontro con uno scrittore, critico letterario, regista, avremo scrittrici. E quindi sarà complesso, impegnativo, ma è rivolto agli appassionati di scrittura e anche agli studenti dell'Ateneo Terramano. E alla fine del corso i racconti saranno pubblicati in antologia, un'antologia curata dallo stesso conduttore del corso, Andrea Carraro.